e adesso il libro sergio cutrona direzione felicità la bussola ogni persona vive fra mille problemi timori e dolori alla costante ricerca del benessere è possibile tuttavia imparare a gestire le proprie emozioni e trasformare quelle negative in positive acquisire consapevolezza ed esercitarsi e la strada per apprendere ogni disciplina prendere la direzione della felicità è possibile per ogni essere umano